La fisicità è sempre una limitazione, non è così? Puoi estenderla, ma c'è una limitazione per il corpo fisico. Fisico significa limite, non è così? Perché la base della fisicità è un confine limitato, non è così? Solo perché c'è un confine limitato puoi chiamare questo fisico. Se togli il confine definito che una forma fisica possiede, non esiste qualcosa come la fisicità. Ciò che è senza confini non è fisico, non è così? Quindi c'è un confine? Decisamente c'è. La natura ha posto delle limitazioni sostanziali su di te, ma ciò di cui parlo è, sta inventando nuove limitazioni. Questo non è necessario. Così com'è la natura ha posto abbastanza limitazioni su di te. Non devi inventare nuove limitazioni e renderti molto più piccolo di ciò che sei. Un essere umano è... C'è così tanto parlare di Dio, Cielo e altre assurdità, principalmente perché gli esseri umani non hanno realizzato l'immensità di ciò che significa essere umani. Questo è il problema principale. Se facessi esperienza dell'immensità di ciò che significa essere umani, non parleresti così tanto di altre cose. Questa è una cosa grandiosa di per sé. Lui trasforma un pesce in un essere umano nel pomeriggio. Non è una cosa grandiosa? Ma lo fa inconsapevolmente. Se può consapevolmente convertire un pesce in un essere umano è un fenomeno. Non lo è? Non è così? È un fenomeno impossibile che tutti voi state compiendo, ma inconsapevolmente. Quindi, quanto di te è entrato nella tua consapevolezza? Questa è la domanda. Se lo osservi, in realtà, nemmeno l'1% di chi sei è entrato nella tua consapevolezza al momento. Se qualche punto percentuale in cui ci entra, d'improvviso ogni cosa che fai sembra sovrumana. Ora, le persone intorno a me ogni giorno assistono a cose cui non riescono a credere. La gente continua a dire, Sadguru, sei superumano, sei un essere umano? Io continuo a ricordare loro, non si tratta di essere superumani. Si tratta di realizzare che essere umani è super. Ora, lascia che ti racconti una storia. Ad un certo uomo venne una sete spirituale. A quei tempi, quando avevano una sete spirituale, andavano nella foresta. Quindi, andò nella giungla. Trovò una bella roccia dove sedersi e meditare. Si sedette. Poi notò che un po' distante da sé, c'era una volpe. Entrambe le zampe anteriori erano mozzate. Una volpe zoppa. Probabilmente in qualche trappola, una trappola di cacciatori, entrambe le zampe andate. La natura non è gentile con alcun tipo di inabilità. Questo prendersi cura delle persone inabili è essenzialmente un tratto della società umana, sai? In natura, se non sei capace di procurarti il tuo cibo, sei spacciato. Quindi, qui c'è una volpe senza entrambe le zampe anteriori, ma sembra sana e ben nutrita. Lui lo notò e pensò, come se la cava questa volpe senza zampe. Poi si sedette. Doveva fare la sua meditazione. Aum, iniziò. Aum, 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 andò avanti per un po'. Mentre calava la sera, sentì il rugito di un leone. Nel momento in cui sentì, l'Aum se ne andò. Corse su un albero e si sedette. si dimenticò della meditazione. Poi arrivò il leone, con un pezzo di carne nella bocca. Venne e lo fece cadere davanti alla volpe zoppa. La volpe mangiò questa carne e il leone se ne andò. Quest'uomo pensò, oh, questo è un messaggio divino. Dio sta cercando di dirmi qualcosa. Una volpe zoppa, nutrita da un feroce leone. Questo è un miracolo dei miracoli. Dio mi sta mandando un messaggio. Qual è il messaggio? Qual è il messaggio? Qual è il messaggio? Si dimenticò completamente della sua meditazione e iniziò a pensare, qual è il messaggio? Poi giunse al suo proprio messaggio. Disse, oh, Dio sta cercando di dirmi, in questa foresta miracolosa, persino una volpe zoppa viene nutrita da un leone feroce. Quando è così, tu sciocco, tu sul sentiero spirituale, cosa pensi al cibo? Stai seduto lì e basta, comunque verrate. Così si sedete, ahum, un giorno. Il secondo giorno, ahum, il terzo giorno, il sesto, il settimo giorno, gemeva per la vita. Incapace di muoversi, totalmente indebolito, gemeva agonizzante. Uno yogi passava di lì, sentì questi rumori, gli si avvicinò e chiese, cosa ti è successo? Perché sei così? Lui disse, oh, grande yogi, ti prego dimmi, ho ricevuto un messaggio divino. L'ho seguito e sono diventato così. Lo yogi chiese, cos'è successo? Lui disse, là, guarda quella volpe, guardala, è ben nutrita. Ogni giorno questo leone arriva con un pezzo di carne e la nutre. Non credi che questo sia un messaggio divino? Ti prego dimmi, è un messaggio divino? Lo yogi disse, certo che è un messaggio divino. Ma perché hai scelto di imitare una volpe zoppa invece di un leone generoso? Quindi questa è la scelta che hai. Se imiti una volpe zoppa, un leone generoso sembra un miracolo. Non è un miracolo. È fattibile. Sì, è fattibile. Nulla di miracoloso in proposito. Ma ci sono due modi di vederlo. Un modo è tutto è un miracolo. Dimmi, metti dell'etame nel terreno e dei manghi spuntano dall'albero. Dolcezza. Il letame e la dolcezza dei manghi. Sono la stessa cosa? Lo sono. Non è così? Non sono la stessa cosa? Il cibo che mangi e quello che fai nella tua letta il giorno dopo. Sono la stessa cosa? Non è così? Sì o no? Se metti lo stesso letame nel campo domani, di nuovo diventa il tuo cibo. Non è così? È lo stesso, ma puoi trattare entrambi allo stesso modo? No, ti serve discernimento su come trattarli. Ma sono la stessa cosa. Non è così? Trasformare dell'etame in manghi non è un miracolo? Trasformare del pesce in un essere umano non è un miracolo? Sì o no? Ogni cosa è un miracolo. Questo è un modo di guardare la vita. Un altro modo di guardare la vita è nulla è un miracolo. Tutto avviene tra causa ed effetto. Se sei così miope da non riuscire a vedere la causa, vedi solo l'effetto. Allora è così. Se sei in grado di vedere sia la causa che l'effetto, tutto è spiegabile. Tutto è ripetibile. Ogni cosa è possibile farla accadere. Ora sto parlando di una tecnologia per trasformarti in un miracolo. Ma questo non è un miracolo. Tutte le tecnologie sembrano miracoli. Non è così? Supponi che non sai nulla di elettricità e la sala è buia adesso e ti dico, stai a guardare adesso. Toccherò semplicemente con la parte del muro e la sala verrà inondata di luce. E se lo faccio? Wow! Ti inchinerai davanti a me. Sì o no? Ogni cosa che non capisci è un miracolo per te. Non è così? Sì. Ogni cosa che non sei in grado di capire è un miracolo per te. Ora tirerò fuori dalla mia tasca qualcosa. Solo una combinazione di plastica e metallo. Farò così e parlerò con qualcuno in India o in America o dove vuoi. Questo è un miracolo o no? Il problema è che tutti voi ce l'avete. Questo è il problema. Se solo avessi avuto un cellulare mille anni fa, sarei diventato Dio in persona. La dannata cosa mi è arrivata troppo tardi. Se avessi avuto una lampadina mille anni fa, sarei potuto diventare un Dio. La dannata cosa è arrivata troppo tardi. Le tecnologie non arrivano mai in tempo, sai. Ogni cosa che non comprendi è un miracolo per te. E allo stesso tempo esiste una cosa sola che comprendi veramente? Voglio che tu osservi questo. Comprendi questo fiore? Pienamente? Lo comprendi? Potresti aver studiato botanica per 10.000 anni, ma comprendi questo fiore pienamente? Comprendi un singolo atomo in questa esistenza? Lo comprendi? No. Quindi ogni cosa è un miracolo. Se guardi abbastanza in profondità, tutto è miracoloso. Ad un livello tutto è spiegabile. Ad un altro livello tutto è miracoloso. Questa è la bellezza della vita. Se hai la ragione necessaria, il necessario senso di meraviglia e di ricerca in te, puoi conoscere tutto e comunque meravigliartene. Perché puoi studiare questo fiore per il resto della tua vita e comunque meravigliartene. Questa è la bellezza dell'esistenza, non è così? Oppure puoi essere uno sciocco che trarrà conclusioni su questo fiore e crederai di conoscerlo. questa è la differenza. Ogni cosa riguardo la tua vita è così, non è così? Sì. Ogni cosa riguardo la tua vita è così. Quindi è miracoloso e ordinario al tempo stesso. È nell'ambito della ragione e oltre la ragione al tempo stesso. È umano e divino al tempo stesso. Puoi giocare tra i due. È molto bello. Puoi anche diventare un animale, sai? Molto facilmente gli esseri umani possono comportarsi come animali. Non è così? Perché ciò che è umano non è consolidato. Puoi passare liberamente, fluidamente dalla natura animale a quella umana, quella divina e da capo, se lo desideri. È molto bello non rovinarlo.